Ben trovati gentili telespettatori, ultima parte del Tg, ospitiamo due amici della nostra emittente ma anche due persone straordinarie. Sto parlando di Don Angelo Tabasco, il direttore della pastorale sociale della diocesi di Vallo della Lucania e di Gennaro Guida, responsabile del lavoro Giustizia e Pace della stessa pastorale sociale. Con noi oggi presenteranno un'iniziativa straordinaria a mio modo di vedere, la responsabilità del noi. Questo è il titolo che insomma rappresenta in sintesi un corso di formazione socio-politico. Ma sentiamo direttamente dalla voce di Don Angelo prima e Gennaro dopo di cosa si tratta. Don Angelo prego il microfono e spieghiamo ai nostri telespettatori questa fantastica iniziativa. L'ufficio di pastorale sociale in linea con la dottrina sociale della Chiesa e con l'insegnamento magisteriale dei papi e soprattutto di Papa Francesco. Ecco, vogliamo proporre ai giovani in modo particolare e a tutti coloro che desiderano impegnarsi sul territorio non con una coscienza dove prevale in modo particolare l'io, l'individualismo, ma una coscienza e una responsabilità del noi perché solo insieme si può certamente dare una svolta nuova anche all'impegno socio-politico che ognuno vuole o già sta portando avanti per il bene del territorio. Ci rendiamo conto che assumere la responsabilità del noi non è una cosa facile perché prevale in modo particolare la parola io e mai noi ma chi ha il coraggio di porsi in questa linea nuova di fare politica anche sul nostro territorio certamente troverà molte difficoltà però lascerà dopo un segno tangibile che è possibile quindi un'azione di insieme per un bene comune globale. Don Angelo, la partecipazione è aperta a tutti? Sì, la partecipazione è aperta a tutti perché noi ci rivolgiamo a tutti coloro che hanno un desiderio di impegnarsi sul territorio, sul piano sociale e politico e che soprattutto abbiano il desiderio di crearsi una coscienza del noi, una coscienza di responsabilità che li vede impegnati a un servizio per il bene comune globale come dicevo. Perfetto, Gennaro Guida, cinque giorni di appuntamenti, l'11, il 25, l'8 febbraio, il 29 e pensate il 14 marzo ce li racconti, ce li spieghi nel dettaglio, che cosa accadrà in questi cinque giorni? Allora, noi come diceva Don Angelo abbiamo chiamato all'appello i giovani, soprattutto i giovani infatti questa cosa è fatta in collaborazione con i giovani soci della BCC, è fatta in collaborazione con la Rete Nazionale della Carità di Don Colmegna di Milano che sta facendo analoghi corsi in giro per l'Italia perché è proprio quello che vogliamo risvegliare noi come diocese, come pastorale sociale l'impegno al servizio, cioè riprendiamo veramente la parola servizio nella politica ma non solo nella politica ma anche nell'attività di tutti i giorni che noi facciamo nella nostra vita infatti hanno aderito l'ordine agli avvocati di Vallo dando dei crediti formativi ai loro iscritti i giovani sotto i 30 anni non pagheranno nulla mentre gli altri pagheranno una piccola quota che ci servirà per pagare le spese degli oratori che sono oratori importanti che vengono da lontano cominciamo da questo primo incontro del giorno 11 ricordiamo che si terranno gli incontri tutti all'oratorio qui ad Aglopo e all'oratorio in queste tre ore conosceremo persone che sono particolarmente impegnate nella cultura della solidarietà e nella cultura dell'impegno sociale infatti il primo incontro ci sarà il responsabile nazionale della CISL per la formazione e ci sarà la presenza del professor Morelli che è un professore che ha fatto studi importanti sulla società civile in questo com'è la società civile in questo momento, le contraddizioni che la nostra società vive quindi è un personaggio di assoluto rilievo nazionale che veramente merita di essere ascoltato gli altri incontri sono incontri su temi specifici quello del lavoro dove avremo il segretario regionale della FIM CISL Donegà in un momento di grandissima crisi per l'industria parliamo di Taranto lui è uno che è protagonista di queste trattative e quindi ci spiegherà cos'è questa esperienza e poi quest'altra figura anomala se vogliamo nella società che è una suora operaia che è sindacalista della CGL in Toscana un personaggio veramente particolarissimo e quindi sul tema dei giovani e del lavoro andando avanti troviamo un incontro molto interessante per il nostro territorio perché si tratta di società e impegno per un welfare a misura di nuove povertà e abbiamo qui un'esperienza molto bella di Angelo Moretti che è un progettista sociale di Benevento che lavora con la pastorale sociale che ci racconterà di un'esperienza molto bella che loro stanno facendo con i piccoli comuni dove c'è l'abbandono del territorio seguirà il contro successivo è un'esperienza economica molto particolare anche questa che nasce dall'esperienza campana la NCO che è la nuova cucina organizzata che praticamente gestisce i beni sequestrati alla Camorra nella zona di Caserta è un'esperienza bellissima e anche qui avremo la presenza sia di Donegà ma anche di Simma Coperillo che è un personaggio veramente di primo piano nella lotta per la legalità in quella zona e infine abbiamo questa conclusione con un personaggio di primordine che ci parlerà di ambiente e di sostenibilità in generale partendo dalla Laudato Si che è l'encicla fatta dal nostro Santo Padre sui problemi dell'ambiente ma che veramente dovrebbe essere un librettino da regalare ad ogni consigliere comunale da leggere perché non si occupa solo di ambiente ma si occupa di solidarietà e di servizio è un regalo che io personalmente ho fatto ai consiglieri comunali di Torchiara la scorsa legislatura ma andrebbe regalata a tutti quanti non perché per Torchiara non hanno bisogno di più ma perché tutti quanti dovrebbero leggersi questo libro che è veramente illuminante su quello che è la politica sociale in questo momento dovrebbe essere il servizio di politica sociale Bene, allora io termino qui vi ringrazio per averci fatto visita e soprattutto per l'organizzazione di questa interessantissima iniziativa con la collaborazione di una serie di associazioni insomma enti che vi sostengono ma soprattutto insieme a voi cercheranno di davvero raccontare la responsabilità del noi Gennaro vuoi aggiungere qualcosa? Ricordiamo il primo appuntamento non mancate perché se venite al primo sono convinto che non ne perderete nessuno perché veramente l'approccio è molto interessante è anche innovativo se vogliamo L'11 gennaio dalle 16 all'auditorio Giovanni Paolo II all'oratorio qui di Agropoli non mancate veramente è un bel momento di confronto e di crescita personale per tutti Un saluto finale da parte di Don Angelo Cosa ci aspettiamo Don Angelo? Ci aspettiamo una buona partecipazione che diventa poi il segno la dimostrazione che davvero c'è un desiderio di assumersi degli impegni sul campo sociale e politico con un senso di responsabilità del noi e quindi di un impegno serio per un bene comune globale Bene, allora ringraziamo i nostri ospiti Don Angelo Tabasco e Gennaro Guida e noi vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento a una prossima edizione del TG di Cilento Channel e noi vi ringraziamo i nostri ospiti